Ciao a tutti i amici e le amiche del Brasile e anche dell'Italia in cui andiamo a mostrarvi come fare un sifolotto ai nostri vecchi tempi se tu sei un giovane, un bambino forse non te sei allora guarda questo video per sapere come era l'infanzia nostra del tuo papà, della tua mamma, dei tuoi zii l'era differente, mi sempre dico che in Antrica aveva almeno 10 o 15 angeli però in un di no Antrica perché i nostri giochi erano tantissimi pericolosi e siamo vivi per miracoli ma anche noi non è mia, non è un gioco, non è un pericolo andiamo a fare un sifolo di campagna, semplice con una pianta e prima che scomincia quei eh perché vuoi occupare una pianta? non dobbiamo occupare neanche una pianta, dobbiamo tagliare via fuori un ramo di questa pianta per dimostrare come fare un sifolo col mio sifolo timbam dobbiamo parlare, dai! questa pianta in portoghese si chiama guatambù amarello allora, voglio tagliare qua un tocco così da questo ramo di una pianta che in portoghese si chiama guatambù amarello non so come si dice in italiano, non conosco le piante in italiano allora, e poi tagliamo per guardare ecco qua il ramo che è tagliato, un tocco così da adesso andremo a fare il nostro sifolo, il nostro sifolotto per soffiare, soffiare, come ti vuol dire, andiamo avanti adesso andremo a tagliare solo la scorsa di questo ramo, va bene? solo la scorsa dopo di tagliare la scorsa, adesso viene fuori la parte che è un pochettino più difficile bisogna un pochettino di forza allora se ti sei un bambino, ti mando aiuto al tuo papà una persona vecchia, grande, va bene? allora adesso bisogna che noi andremo a tagliare con forza e lo facciamo un giro per scorsare, scorsare fuori vediamo? facile, guarda qua facile, fatto il nostro sifolo di campagna sono sicuro che ti capisci che hai fatto dopo scrivi qua sotto, non mi dimenticare andiamo ora a testare il nostro sifolo di campagna se ti capisci questo, se ti capisci ricordare non mi dimenticate di lasciare scrivere qua sotto i tuoi commentari scriverci anche sul canale Brasile Italia è anche l'importante per non mantenere le nostre storie vecchi la nostra maniera di divertirsi questi anni in drill va bene? allora avanti, giocare adesso con i nostri bambini e alla prossima!